Bentornati su Gens Italia, la guerra del futuro. La guerra del futuro costa poco e ci potrebbe sorprendere questa cosa qui. Nel 2027 le macchine voleranno e poi ci troviamo invece con dei piccoli droni che sono in grado di mettere in scacco delle porte aeree americane. Questa cosa secondo me è fantastica in questo mondo che ci sorprende in maniera non sempre positiva ogni giorno. Beh parleremo oggi di questo, della guerra low cost e parleremo anche dei bunker di Israele. Ma prima direi di cominciare subito con un'affermazione. L'America, e non solo giungo io, non è pronta per la guerra del futuro e le guerre del futuro sono già qui. Il futuro appartiene alle guerre low cost, droni, robot, altri combattenti non umani. Costano una frazione degli armamenti convenzionali e le guerre saranno più asimmetriche. La portata di mini potenze o attori non statali come milizie e gruppi terroristici, ma ci arriviamo tra un attimo. Noi occidentali non siamo abbastanza preparati a combatterle o a difenderci, mentre guardando da un'altra parte verso est, beh, la Cina sì. Questi pensieri non sono opera mia di Gianluca, ma dimentico come l'ex capo di stato maggiore del Pentagono. Facciamo una premessa. Siamo nati in un mondo di pace, almeno questo è quello che ci piace raccontarci, soprattutto a noi generazioni Y o Z, scegliete voi a seconda di chi sta guardando. Mentre il resto del mondo invece era in guerra, o almeno stava combattendo la propria guerra. E quindi accettare che bisogna combattere per mantenere la pace per noi è molto difficile. Questo costituisce un vantaggio per chi invece non ha nulla da perdere o è abituato a combattere. Di nuovo, ci arriviamo tra un attimo. Facciamo prima alcuni esempi. Andiamo ad esempio nella guerra in Ucraina, nel Mar Nero. Sappiamo benissimo che da anni gli ucraini sono senza una flotta. Eppure, senza una flotta, stanno distruggendo la flotta della controparte, la controparte russa. Ora sappiamo benissimo che la guerra in Ucraina non si vincerà sul Mar Nero. Però questi sono degli indicatori su quello che sarà il futuro della guerra marina. Vi ho già raccontato, ad esempio, dello sviluppo di alcuni droni marini, il Manta Ray, questa arma rivoluzionaria americana che dovrebbe essere sviluppata, anzi è già sviluppata e che sta venendo testata in America, che è molto simile proprio all'animale, questa tecnologia che va, adesso non ricordo il nome esattamente, che va a studiare effettivamente come funziona la natura e poi replica il tutto. Ma spostiamoci, andiamo ad esempio nel Mar Cinese. Passando a un altro scenario, ci racconta il Corriere della Sera in questo caso, sia Taiwan che la Cina investono nelle nuove tecnologie low cost, l'una per la difesa, Taiwan, l'altra per l'attacco. Lo schiulibro però è notevole non solo per la stanza economico-finanziaria dei due paesi, Formosa, l'isola Bella contro la Cina. Il più grande produttore mondiale di droni è proprio la Cina, come di tante altre cose. Inoltre la difesa americana di Taiwan, tradizionalmente, prevede l'intervento di flotte e il trasporto di approvvigionamento delle basi americani, di Okinawa e delle Filippine. Tutte operazioni all'antica, questo dice il Corriere della Sera, ribadisco, non io. Nel corso della quale le forze statunitenti sarebbero ingombranti bersagli alle a merce di attacchi non convenzionali da parte di droni aerei e droni sottomarini. Ma oggi però io vorrei soffermarmi di più su di un altro caso, spostandoci nuovamente in Medio Oriente. Perché lo sappiamo, sono da mesi in realtà che ve lo raccontiamo, di quello che sta accadendo nel Mar Rosso. Ad esempio ci racconta Politico, nella nostra rassegna stampa che comincia adesso. Le forze statunitensi hanno lanciato circa 800 missili e 7 round di attacchi aerei contro gli UTI, sostenuti dall'Iran nello Yemen. In quella che è diventata la campagna militare più sostenuta dalle forze americane dai tempi della guerra aerea anti-ISIS in Iraq e Siria. La battaglia nel Mar Rosso è stata messa in secondo piano con l'attenzione del mondo concentrata sulle elezioni presidenziali degli Stati Uniti e su conflitti di più alto profilo come l'invasione russa dell'Ucraina e la guerra di Israele e Gaza, se guerra la possiamo chiamare. Ma un previsto attacco iraniano a Israele nei prossimi giorni si baserà quasi certamente in gran parte su proxy in Libano e Yemen, mettendo le navi statunitensi nella regione al centro della lotta. Mentre il gruppo sostiene che i suoi ultimi attacchi alle navi commerciali, si fa riferimento agli UTI, nel Mar Rosso sono diretti alle imbarcazioni israeliane, a causa, lo ricordiamo appunto, almeno formalmente da parte degli UTI del sostegno nei confronti dei palestinesi a Gaza, la realtà è che stanno attaccando qualsiasi cosa riescono a colpire. Piccolo dato che io ricordo sempre, anche perché l'Italia in questo momento è presente nel Mar Rosso con le proprie navi, l'Italia in quel canale, nel Mar Rosso, nel canale di Suez e nello stretto di Babelman Deb, ha un interesse di circa il 40% dell'export commerciale. Andiamo a vedere un attimo però i costi della cosiddetta guerra povera, la chiameremo così oggi. Stiamo bruciando la prontezza per decine di miliardi di dollari per quello che in realtà equivale a un gruppo eterogeneo di terroristi che sono dei proxy dell'Iran. Questo ha detto il deputato Mike Wolf che presiede la sottocommissione per la prontezza dei servizi armati della Camera. Prendetela per com'è. L'Iran è il nocciolo della questione. La Marina sta abbattendo la maggior parte di quei droni e missili che prendono di mira le navi commerciali, costringendo gli Stati Uniti a schierare navi da guerra nel Mar Rosso per mesi. La lunghezza e l'incerto finale della missione nel Mar Rosso che ha coinvolto così tante risorse americane di alto livello. Stiamo parlando di portaerei, cacciator pedinieri, aeree F-18. Quindi cose, strumenti che costano. E qui entra in gioco un discorso. Un discorso che già qualcuno sta portando avanti da tempo, ovvero la stanchezza degli Stati Uniti. La stanchezza degli Stati Uniti, un paese che per tanto tempo ha protetto effettivamente, o almeno questa è la versione ufficiale, il mondo, che ci faceva anche comodo che avesse questo compito, ma che sempre di più si rende conto di non poter star dietro a tutti questi fronti. Questi fronti voluti o non voluti. Fronti che a volte anche semplicemente scappano di mano proprio grazie a questo discorso della guerra low cost. Droni, dal costo di un'utilitaria, che impegnano flotte da milioni, se non miliardi di dollari. Giorno dopo giorno è principalmente la Marina degli Stati Uniti a combattere ondate di droni economici prodotti in serie lanciate dagli UTI che prendono di mira le navi nel Mar Rosso. E giorno dopo giorno i droni continuano ad arrivare, costringendo l'esercito americano a bruciare centinaia di missili multimilionari in una missione senza una fine in vista. È una battaglia che è emersa come l'operazione militare più estesa a duratura degli Stati Uniti, viene nuovamente ripetuto. In un senso, in un certo senso, contraddice anche la dichiarazione di Biden del mese scorso quando ha annunciato che avrebbe concluso la sua campagna di rielezione di essere il primo presidente di questo secolo a riferire al popolo americano che gli Stati Uniti non sono in una guerra, in nessuna parte del mondo. Questa parte è interessante perché viene anche un po' spiegato il discorso delle dichiarazioni di guerra nel libro, le parole della guerra. Beh, è interessante andare a vedere come in realtà quella nel Mar Rosso di fatto è una campagna militare a tutti gli effetti. Ci sono però dei cavilli che vietano ad utilizzare la parola guerra. Forse è anche memori del fatto che andare a mettere i cosiddetti foot on the ground in un territorio come lo Yemen del nord, beh, potrebbe costringere gli americani e non soltanto gli americani a andare a impegnarsi in un Afghanistan 2.0. Forse è anche peggiore sotto certi punti di vista. Se poi ci soffermiamo sui risultati di questa campagna. Campagna che io, lo dico da italiano, è nel mio interesse, nel vostro interesse, se siete italiani, se siete occidentali, che le navi che passano attraverso quel canale ricomincino a farlo in sicurezza. Beh, andiamo a vedere che cosa ha portato a questa campagna da milioni, miliardi di dollari. Durante il dispiegamento di nove mesi prolungato due volte del gruppo di attacco delle portaeree americane nel Mar Rosso, in particolare si parla dell'Heisenhower, le forze statunitensi hanno sparato oltre 135 missili di attacco terrestre, i Tomahawk, armi che costano più di 2 milioni di dollari l'una, contro obiettivi utili nello Yemen, che, ripetisco, hanno a disposizione dei droni, dei barchini, ma che hanno un costo di un'utilitaria. Le navi hanno anche lanciato 155 missili standard di vario tipo e che costano tra i 2 e 4 milioni di dollari l'uno per distruggere i droni in arrivo. L'aero F-18, prendiamo ad esempio quello dell'Heisenhower, che ha sparato 60 missili aria-aria e 420 armi aria-superficie durante gli attacchi di difesa in mare e contro obiettivi a terra. L'Heisenhower, che poi è stata comunque sostituita per questo primo parlato di due portaerei della Roosevelt, ha continuato da battere droni quotidianamente. Ma come detto prima, questi continuano ad arrivare. Il tutto quindi senza risultato. Sarebbe difficile sostenere che la libertà di navigazione, questo ci racconta politico, sia stata ripristinata nel Mar Rosso. Dopo mesi di attacchi, gli UTI hanno effettivamente intensificato la loro campagna, incluso l'uso di un drone che ha preso di mira Tel Aviv, ve lo ricorderete. Quindi è difficile dire che in base a quanto accaduto finora la libertà di navigazione sia stata ripristinata. Detto in soldoni, quindi è difficile dire che a fronte di questa spesa ci sia stato poi un risultato effettivo. Di fatto vediamo che moltissime navi, in particolar modo provenienti dalla parte occidentale, che hanno un filo conduttore non soltanto quindi con Israele, devono fare il giro dell'Africa, circondavigare. E questo ha un costo assicurativo e di carburante, che inevitabilmente prima o poi arriverà direttamente nelle nostre tasche. Il pomodoro, il caffè, e beh, quello andrà a costare molto di più. Questo lo dico a beneficio di chi si chiede come mai abbiamo mandato alcune nostre navi a fare gli interessi, con dei costi chiaramente, dell'Italia. Ricordandoci sempre che tutto questo va a beneficio di chi invece vuole vedere un'America stanca, che si sta andando a scontrare contro delle onde, fondamentalmente. Perché nel momento in cui tu non riesci a fermare questi attacchi, beh, stai di fatto combattendo contro delle onde o dei mulini a vento, scegliete voi. Altri repubblicani, ad esempio, sostengono che la risposta al problema degli UTI passa attraverso una maggiore pressione sull'Iran. Iran, che lo ricordiamo, ha un'industria sempre più fiorente per quanto riguarda i droni. Proprio ieri mi avete chiesto come mai la Russia ha deciso di andare a fornire, secondo alcuni, delle armi di difesa, proprio per il paese, incluse armi anti-aeree, ma soprattutto ci si concentra sul discorso delle armi di guerra elettronica, beh, per il semplice fatto che l'Iran è uno dei paesi che va a sostenere lo sforzo bellico in Russia, assieme ad esempio la Corea del Nord. I missili di precisione antinave e aria terra che vengono utilizzati nello Yemen sono proprio il tipo di armi che sarebbero in prima linea, tra l'altro, in qualsiasi lotta contro la Cina. La Cina è definita una grande vincitrice su tutta la linea, secondo Walz, uno degli analisti che viene citato proprio dall'articolo di Politico. La nostra flotta, conclude, si sta esaurendo. Stiamo lanciando i missili di cui abbiamo bisogno per difenderci dallo scenario di Taiwan. Quindi questa è la situazione e spero di avervi dato un quadro su quello che potrebbe essere invece l'interesse, soprattutto da parte dell'Occidente, di andare a calmierare il tiro su questo genere di guerre che da un lato contrapone dei droni da poche centinaia di dollari, migliaia dai, forse sono stato troppo buono, e invece dall'altro parliamo di droni, missili, aerei da milioni. Sono curioso di sapere la vostra. La seconda notizia invece che ho scelto di raccontarvi viene dal Corriere della Sera, che ci racconta per quale motivo in Israele i bunker sono obbligatori. E ci parla anche di questo doppio standard che il mondo ormai ci propone. Un mondo dove nei bunker di Israele viene accumulata acqua, cibo, birra, ci viene raccontato dal Corriere della Sera, mentre dall'altra parte nel sud c'è chi non può permettersi nemmeno l'acqua, figuriamoci i bunker, tranne magari quelli sotterranei che permettono alla milizia di Hamas di fare quello che fanno. Perché ricordiamoci sempre che in questo mondo non esistono buoni e cattivi, ma come mi ricorda molto spesso il coniglio e l'anatra dietro alle mie spalle, beh, bisogna vedere le cose da più punti di vista. L'articolo comincia con la maggior parte degli israeliani che si limita ad accumulare bottiglie d'acqua minerale, casse di birra come detto prima, cibo in scatola, come in un picnic della paura. Il tutto viene riposto nei mamad, che sono delle camere blindate obbligatorie per legge in ogni palazzo. Ci sono varie suddivisioni, vi lascio nel primo commento il link, un link molto banale a Wikipedia, dove c'è proprio la suddivisione anche dei vari tipi di bunker. La legge risale al 1951 ed è stata aggiornata nel 92, quando Saddam Hussein lanciava missili su Tel Aviv. Così gli abitanti continuano a dormire poco, però tendono l'orecchio alle sirene di allarme e studiano il percorso dal bar, ristorante all'ufficio più vicino, più vicino al bunker pubblico in questo caso. Le norme indicano che i muri nei mamad devono essere ispessiti con almeno 20 cm di cemento rinforzato. Sono previste tre prese elettriche e una per l'antenna, radio, televisione, così da ricevere le notizie. C'è un sistema per il filtraggio dell'aria e l'unica porta è blindata. Chiusura però che in tempi di pace è stata sostituita con porte magari in legno e soprattutto bunker che sempre in tempi di pace, garantiti anche dall'Iron Dome ad esempio, hanno trovato un nuovo impiego come cameretta per i bambini, ci scrive il Corriere della Sera. Tuttavia in questa settimana in cui si sa che arriverà, presumibilmente nei prossimi giorni, nelle prossime ore, una risposta da parte dell'Iran, del Libano e magari di altri attori nei confronti di Israele, beh, in fretta e furia ci si è approntati a sgomberare quei bunker. Spero di avervi dato alcune informazioni di cui magari non eravate a conoscenza. Come sempre vi invito a farci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti in maniera civile in un mondo non tanto civile e se volete avete la possibilità di sostenere il nostro progetto di divulgazione con gli abbonamenti che costano quanto un caffè e una brioche al mese. Detto questo ci vediamo presto qui su Gensitalia con nuove notizie del mondo.